Avete mai visto la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Tuledo? È una chiesa secentesca rifatta nel 1835 per volontà di Ferdinando II di Borboni. Pochi sanno che al suo interno esiste un altare maggiore del 1759 realizzato dal famoso Giuseppe San Martino. E poi ci sono i tanti scarabattoli di XVIII e XIX secolo dedicati a Santi e Madonne. Di rara bellezza un Cristo alla colonna risalente al 1600. La chiesa venne affidata alla reale arcicofraternita di Nostra Signora dei Sette Dolori De Nobili di Santo Spirito di Palazzo. Grazie a tutti!